Musica Dottoressa Claudia Corinna Benedetti per l'Osservatorio Nazionale Permanente sulla Sicurezza nonché l'anima organizzatrice di questa gran galà di beneficenza. Allora dottoressa non siamo alla prima esperienza però lei bene ha detto sul palco ogni anno si impara qualcosa e ogni anno si cresce. Che cosa è cambiato quest'anno? Ma è cambiato sicuramente la compagine non solo del nostro paese quindi dell'Italia ma europea e mondiale quindi organizzare un galà di beneficenza in un momento in cui c'è anche una grossa crisi economica ma che si è abbinata anche a una grande crisi di valori. Vedere come hanno risposto i tanti amici e gli amici di tanti amici a questo nostro desiderio che è quello di intanto della riconoscenza. Essere riconoscenti ciò che abbiamo e poter dire e di avere l'opportunità attraverso amici che condividono gli stessi obiettivi di donare qualche cosa a delle associazioni come in questo caso la Cercomerito, malattie rare che da anni lavora su questo e ad una associazione Solidai Onlus impegnate anch'esse per aiutare chi ha più necessità di noi. L'occasione ovviamente è anche quella di una socializzazione tra noi tanti amici ed è anche quella di condividere questi obiettivi questi valori e di scambiarci anche gli auguri affinché l'anno prossimo sia certamente un anno come posso dire anche più umano, anche più vero, anche più forte dove i nostri valori siano consolidati e soprattutto le grandi eccellenze italiane, quindi parlo del Made in Italy e qui stasera abbiamo una rappresentanza non indifferente di società che poi hanno rilasciato anch'esse la loro intervista, parlo della CSP che è una società che lavora nel campo della Information Technology ed è un'eccellenza italiana parlo di anche piccole società come la Altec, parlo di chef che con la loro fantasia, con la loro creatività ma soprattutto l'amore della buona cucina del Made in Italy e della cucina mediterranea questa sera ci hanno fatto fare degli assaggi assaporando i sapori veramente quelli veri della cultura italiana poi le artiste, la creatività delle nostre artiste italiane anch'esse perché credo che in questo momento abbiamo bisogno ancora di più di consolidare il nostro essere italiani ma consapevoli che viviamo in un mondo europeo proiettato ovviamente globale quindi non è che siamo chiusi nel nostro mondo ma dobbiamo capire e quindi lavorare anche contro la contraffazione che purtroppo è un elemento che ci attanaglia un po' troppo e l'abbiamo sottolineato in due convegni al Tempio di Adriano e questa sera qui tutto questo lo abbiamo riunito con molti molti amici e scambieremo con loro anche gli auguri per l'anno prossimo che sia migliore per tutti, grazie Grazie dottoressa Claudia Corina Benedetti, adesso il generale speciale, anche da lui vogliamo generale, generale speciale, grazie, siamo su Liberi TV generale e anche da lei vorremmo per i nostri utenti un saluto che ci ricordi il motivo per cui siamo riuniti a Palazzo Brancaccio questa sera Buonasera a tutti, il motivo è molto semplice, anzi sono due i motivi il primo è quello di radunare un certo numero di amici conoscenti, selezionati per fare in modo che tra essi nascono delle relazioni sociali e amichevoli e il secondo è quello di cercare di donare a persone più sfortunate di noi un piccolo contributo di carattere economico L'ONPS non è solito organizzare eventi di questo genere ma è lieto di averlo fatto proprio per aver realizzato, per realizzare, speriamo che si realizzino questi due obiettivi che secondo noi sono importanti E noi la ringraziamo, naturalmente rinnoviamo a tutti i nostri utenti che siamo qui per una causa benefica Generale, tra l'altro voi dell'ONPS siete stati lungimiranti, non avete aspettato l'anno santo straordinario della misericordia voi ci avevate già pensato prima, quindi questo vuol dire che voi siete molto attenti ai problemi altrui Non solo siamo attenti ai problemi di sicurezza, ma siamo attenti anche ai problemi di carattere sociale che poi hanno una stretta attinenza anche con la legalità e con la sicurezza E noi la ringraziamo, intanto si apre la serata, quella più conviviale E poi naturalmente ricorderemo ancora una volta che ci sono delle persone straordinarie come gli artisti di oggi che vanno ad evolvere qualcosa di loro in beneficenza